Hai mai voluto vedere perfettamente sott'acqua anche senza maschera? Non ci volevo credere, ma ti giuro che funziona! L'obiettivo è creare una sacca d'aria davanti agli occhi, che funziona come una maschera. Puoi provarlo anche nella vasca di casa. Metti la base del pollice di fianco agli occhi e chiudi le dita sulla fronte così da creare un sigillo. Poi fai uscire aria dalla bocca delicatamente verso l'alto, quanto basta per riempire d'aria la zona tra le mani. Non è facile, ma quando ti vieni vedrai perfettamente. Scrivici nei commenti se ci riesci.